Ciao! Se hai condiviso questo video è perché anche tu, come me, odi gli stronzi in piscina. Com'è l'acqua? Bagnata! Vado a fare i bimbi... Ah, è ghiacciato! Ah, è un po' caldo! Ah, è un po' tiepido! E che preferisco il mare, me ne vado? Ti stavo dicendo, lo porto da qua, la camera è la cassa! Piccio, va a ruffiare! D'accordo, io vengo vicino, però non dovete schizzarmi, non dovete schizzare assolutamente gli occhi. Non schizzate i capelli perché è fattivo, non schizzate la faccia di quello sotto, quando bisogna muovere i bimbi, non si sa mai. Tra l'altro non mi schizzate perché devo prima togliere il bracciale, non può entrare... E' rotto il cacchio! Ma mi spieghi che viene a fare in piscina, scusami! Sai cosa dovremmo fare proprio noi? Mandarti a fa... Grazie a tutti!